Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e oggi è il terzo compleanno di Diario di Viaggio on the road. Cominciamo, sigla! Io ci ho provato a realizzare il video in auto con la GoPro, ma l'audio era qualcosa di terrificante, quindi più avanti cercherò di organizzarmi meglio per realizzare i video in auto, perché per il momento l'Alegria Mini non è disponibile. Comunque per questo video ho pensato che fosse il caso alla fine di venire in studio e registrarlo qui, così si sente tutto un pochino meglio. Allora, ecco a voi 21 curiosità su Diario di Viaggio on the road, in ordine alfabetico. Lettera A come anni. I tre anni più intensi della mia esperienza su YouTube, anche se il mio canale in effetti è nato prima, è nato a giugno 2008 perché è stato quello il momento in cui ho convertito il mio account Google Video e l'ho associato a YouTube, in realtà poi è stato il 19 febbraio 2014 che io ho cominciato a realizzare dei contenuti e a pubblicare con cadenza regolare su YouTube, quindi è in quel momento che è cominciata la mia esperienza su YouTube, ed è stata un'esperienza molto intensa ed un'esperienza molto interessante decisamente. Lettera B come bravura, la bravura di tantissimi youtuber che ho conosciuto in questi tre anni. youtuber stranieri, ma anche youtuber italiani, soprattutto moltissimi youtuber italiani molto bravi che mi hanno completamente fatto cambiare idea rispetto a quello che pensavo prima della community di YouTube Italia. È cambiato molto il mio pensiero, perché ho conosciuto moltissimi youtuber molto bravi che portano contenuti culturali, che portano contenuti inerenti la scienza, inerenti l'educational, ma anche che portano contenuti un pochino frivoli, ma che comunque mettono molta cura nei loro contenuti. Sono tutte quante persone veramente molto simpatiche e molto gentili, è stata per me una cosa molto bella venire a conoscenza di tutte queste persone. Lettera C come contenuti, o forse dovrei dire come cultura generale, che è quello che cerco di portare con Diario di Viaggio on the road. Quando io ho cominciato sapevo che avrei potuto specializzarmi su uno o due argomenti e parlare soprattutto di quegli argomenti, fare un canale monotematico. e probabilmente questo mi avrebbe dato anche la possibilità di avere un maggiore successo su YouTube, questo lo ammetto. E devo anche dire che Diario di Viaggio on the road nasce soprattutto come un modo di portare i miei contenuti che pubblicavo sul mio blog in una struttura non più basata su del testo scritto, ma su dei video, quindi su una recitazione, su una produzione multimediale. Per cui ho deciso un po' di continuare questo percorso e di portare, più che dei singoli argomenti o che un singolo tema, degli argomenti molto generici in cui il tema portante è soprattutto appunto la cultura generale. Lettera D come Diario di Viaggio che è stato ed è ancora il mio blog, il mio spazio in cui scrivo le mie cose. Adesso utilizzo il mio blog soprattutto per diffondere i miei contenuti di video, approfittando della trascrizione la stessa trascrizione che utilizzo per fare i sottotitoli dei miei video. Però è un blog che è nato a luglio del 2004, ben 13 anni fa, quindi è un luogo in cui ho messo moltissima esperienza nello sviluppare, nel parlare di determinati argomenti, nel analizzare determinate situazioni, determinati fatti di attualità. E il Diario di Viaggio on the road, infatti, è un modo di portare on the road in auto durante la guida i contenuti originari di Diario di Viaggio, e di continuare lungo quella strada. Lettera E come esperienza, l'esperienza fatta parlando di fronte a una telecamera, che è una cosa che è cambiata tantissimo negli ultimi tempi. Sicuramente quando ho cominciato con Diario di Viaggio on the road, quando ho cominciato a pubblicare video su YouTube ero molto emozionato quando mi mettevo davanti alla telecamera, ho scelto la tecnica di mettermi in auto e di parlare, quindi mentre guidavo, perché in questo modo non dovevo pensare troppo al fatto di avere la telecamera davanti al naso. Devo dire che ancora adesso mi capita comunque di non sentirmi del tutto e al cento per cento pronto e tranquillo a parlare di fronte all'obiettivo della telecamera, però certamente le cose sono cambiate moltissimo nel corso del tempo, nel corso dell'esperienza che ho fatto facendolo youtuber. lettera F, come fantasia, la fantasia che mi spinge a trovare degli argomenti sempre nuovi per parlare in Diario di Viaggio on the road. Io l'ho già detto in passato, ho un file di testo in cui metto gli argomenti che mi piacerebbe trattare, poi piano piano ogni tanto do un'occhiata a quel file di testo, scelgo un argomento e realizzo il video. Ci sono stati dei momenti che mi è stato molto utile quel file di testo, perché ci sono stati dei momenti che veramente non sapevo di che cosa parlare, allora guardavo quel file, sceglievo un argomento e trovavo qualcosa di interessante. Ma adesso, nel corso del tempo, come si suol dire, l'appetito vi è mangiando. Mi vengono sempre diverse idee, letteralmente decine di idee per realizzare decine di video su decine di argomenti, e in questo momento il file degli argomenti che devo ancora trattare è veramente molto grosso, talmente grosso che so che posso andare avanti penso probabilmente ancora altri tre anni, prima di dovermi fermare e guardarmi intorno e dire «ok, aspetta un attimo, non so di che cosa parlare». Naturalmente nel corso del tempo ogni tanto mi viene in mente qualcosa che potrei approfondire, quindi aggiungo ancora qualcosa in quel file. G come Google Video. Google Video è stato il portale con il quale per la prima volta mi sono approcciato alla produzione video su internet. Su Google Video avevo caricato i miei cortometraggi, le cose che avevamo realizzato con gli amici in cui mi ero occupato della regia o in cui avevo recitato, perché la passione per la produzione video è una cosa che mi porto appresso da moltissimo tempo. Con Google Video parliamo degli anni come il 2002, il 2003, poi il 2004, quando piano piano è arrivata la piattaforma YouTube, è stata rilevata da Google, le due piattaforme si sono fuse e sono cambiate molto le cose. Lettera H come hashtag. Il famoso hashtag di DVOTR. Quando ho cominciato a pubblicare video con cadenza regolare su YouTube, sin dall'inizio ho cercato di puntare anche a creare, a costruire l'hashtag di DVOTR, anche se molti mi dicevano che all'inizio è difficile per un canale YouTube riuscire a lanciare un hashtag, e un hashtag complesso come il DVOTR potrebbe non essere molto potente. E alla fine, piano piano, questo hashtag è cresciuto ed è rimasto costante in questi tre anni. Che forse non è una cosa ideale per le cose tecnologiche che dovrebbero sapersi evolvere. Eppure l'hashtag di DVOTR, comunque, pur essendo rimasto sempre lo stesso, rappresenta un po' l'evoluzione di quello che è di DVOTR . Lettera I come interazione, l'interazione con il pubblico dei miei video YouTube, che è una cosa che cerco di realizzare il più possibile. Adesso che il canale è ancora relativamente piccolo riesco a farla molto facilmente, mi auguro quando un giorno il canale crescerà di essere sempre in grado di interagire correttamente con il mio pubblico, perché penso che l'interazione sia una cosa molto importante su YouTube. YouTube non è la televisione in cui tu butti il tuo contenuto lì in mezzo, il pubblico lo guarda e chi se ne importa se il pubblico l'ha gradito o meno. L'interazione è molto importante. E poi mi piace, appunto, creare questa interazione con gli altri youtuber, con le persone che guardano i miei video, sicuramente è una cosa molto bella e molto piacevole, ed è una cosa per cui YouTube va vissuto come un social network. YouTube ha grandissime potenzialità, e l'interazione, secondo me, è proprio una di queste. Lettera L come lunghezza. La lunghezza di molti miei video che supera i 10 minuti, e in certi casi addirittura supera i 15 minuti. Io piano piano, nel corso del tempo, sto cercando di ridurre un pochettino la dimensione dei miei video, di cercare di restare il più possibile al di sotto dei 10 minuti. Ciò non toglie che, anche se alcuni miei video superano i 10 minuti, che in certi casi superano anche i 15 minuti. Cerco sempre di intrattenere il pubblico in maniera onesta e in maniera da non annoiare nessuno, quindi io mi scuso se ci sono dei video che sono particolarmente lunghi e particolarmente complessi, ma cerco di fare il possibile perché questi video, comunque, non siano anche noiosi. Lettera M come macchina. La prima macchina con cui ho cominciato a realizzare di ario di viaggio on the road era la Ford Mondeo Station Wagon, una vecchissima Ford Mondeo Station Wagon del 97, e seguita quella che ho adesso, che è la Dacia Logan MCV Station Wagon. Io guido Station Wagon fondamentalmente da poco più di 17 anni, quasi 18 anni, e quelle poche volte che ho preso delle auto non so, quella di mia madre o quella di un amico, più corte di una Station Wagon, mi sono sentito particolarmente imbranato. L'unica volta nella mia vita che ho guidato una Smart mi sono sentito veramente un completo idiota. Lettera N come nuovi format. Che arriveranno? Perché il mio lavoro è la cosa che mi impegna maggiormente, il mio lavoro di tecnico informatico. Ma in mezzo al mio lavoro sto cercando di realizzare i nuovi format, a parte vita da tecnico, sto cercando di realizzare le puntate di MusiTube, sto cercando di realizzare altre cose, perché ho altre idee per situazioni che mi piacerebbe portare su YouTube, e piano piano arriverà tutto quanto. Quest'anno conto di arrivare almeno a cominciare Vita da tecnico in MusiTube. Entro la fine di quest'anno forse riesco anche a realizzare un altro format a cui stiamo già lavorando con alcuni amici. Lettera O come organizzazione. L'organizzazione che mi permette di realizzare i video è abbastanza complessa, perché io in questo momento che sto girando questo video è sabato, e questo video sarà pubblicato non domenica che è il giorno successivo, cioè per me domani, bensì domenica della settimana prossima. E domani, domenica per me, sarà pubblicato il video che io ho girato sabato scorso. Io cerco di portare avanti i miei video registrando ogni volta un video con una settimana di anticipo. Questo mi permette in caso di emergenza o di necessità di poter saltare un sabato, di poter non girare un sabato per un qualsiasi problema, avere il video già pronto per la domenica ed eventualmente il video che avrei dovuto girare il sabato lo girerò la domenica o lo girerò durante la settimana. Lettera P come protezione civile. Io continuo la mia attività di volontariato di protezione civile. Non solo ci saranno sempre dei video di protezione civile, quelle volte che mi capita di svolgere delle attività o dei servizi, ma tra le altre cose c'è un nuovo format a cui sto lavorando che coinvolge anche le attività di protezione civile e la funzione della protezione civile in genere. Spero di riuscire a presentarvi questo format entro la fine di quest'anno. Ci stiamo lavorando in varie persone, perché è una cosa molto complessa. Lettera Q come quando ritorna Vita da Tecnico. Presto, fidatevi! Questa stagione sono dodici puntate più il finale, abbiamo già girato nove puntate e sto già cominciando a montarle, quindi molto presto arriverà la terza stagione di Vita da Tecnico. Lettera R come ricordi delle cose più particolari successe girando Diario di Viaggio on the the Road. Quella sicuramente più interessante è la puntata numero 3 di Diario di Viaggio on the Road, che ho dovuto cancellare su richiesta della casa di produzione di un DJ portoricano, perché mentre guidavo e parlavo e passata un'auto dal senso opposto di corsa si sono sentiti tre-quattro secondi di percussioni, tre-quattro secondi di fate conto tu-tunz 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 ed è andata via la macchina, il Content ID ha segnalato che era una violazione di copyright, cosa che già mi dava un certo fastidio, perché non è possibile che mentre io sto guidando, passa un'auto per tre-quattro secondi, si senta solo delle percussioni e diventa una violazione del copyright, l'ho dovuto rimuovere il video, perché la casa di produzione rifiutò la considerazione che non era la musica del DJ, ma solo un pezzetto di percussione, e mi minacciò di strike. E devo dire che questa cosa mi è rimasta sullo stomaco. Questo è il ricordo un po' più brutto. Di ricordi belli ce ne sono tantissimi, molto simpatici di come mi sono venute delle idee per realizzare delle cose, delle piccole scenette prima di cominciare con il benvenuti a bordo viaggiatori, sicuramente. Ma ogni tanto trovo sempre qualcuno che mi taglia la strada mentre sto girando una puntata e ricomincio a parlare, ma questo fa parte della normalità. Lettera S sicuramente come sottotitoli, i sottotitoli per non udenti che contraddistinguono il mio canale. Una cosa cominciata con l'idea di continuare con i discorsi di accessibilità di cui mi ero già occupato in passato. Piano piano da hobby sta ritornando ad essere un lavoro, perché mi ha aperto una possibilità anche a livello lavorativo. I sottotitoli sono la cosa a cui tengo moltissimo nei miei contenuti YouTube. Il mio canale in questo momento ha quasi 300 video sottotitolati in italiano per i non udenti, che significa che fra poco celebrerò anche il trecentesimo video sottotitolato e ho già anche un'idea messa da parte proprio per questo. I sottotitoli che sono una funzione molto importante di YouTube, perché tantissimi possono venire intrattenuti da YouTube, e anche le persone sorde hanno le nostre stesse passioni, piace guardare le stesse cose che guardiamo noi, piacerebbe guardare gli stessi video che guardiamo noi e hanno la possibilità, dove ci sono dei sottotitoli corretti, di poter guardare le stesse cose che guardiamo noi e ridere per le stesse cose che stiamo guardando anche noi. Penso che sottotitolare abbia soprattutto questa importanza. ti come tecnico informatico, come appunto dicevo. Vivo YouTube non come passione, non come attività lavorativa, ma semplicemente come un hobby. Se io non avessi ricominciato a lavorare nelle produzioni video, ho lavorato per anni in televisione, se non avessi ricominciato con l'hobby di YouTube, probabilmente avrei continuato un altro hobby. Sono un radiamatore, un operatore di ascolto di frequenze radio, è una cosa che per il momento ho messo da parte, ma è una cosa che avrei potuto continuare, invece di diventare YouTubero, se non fossi diventato YouTuber. U come U-format, unico nel suo genere. Non sono tantissimi quelli che parlano di cultura generale guidando l'automobile. L'idea me l'ha data il canadese Corduroi Paco, perché io quando avevo pensato che mi sarebbe piaciuto fare lo YouTuber, l'ispirazione a diventare uno YouTuber, a realizzare dei contenuti con una certa costanza me l'aveva data Matthew Santoro, un altro canadese. Però mi ha dato l'ispirazione a cominciare l'attività di YouTuber, non a realizzare dei contenuti. Per i contenuti è stata proprio l'idea di Corduroi Paco, di realizzare le cose in macchina, il fatto che mi dicevo io mi muovo tantissimo in macchina, devo andare spesso da un cliente all'altro, perché non sfruttare questi spazi vuoti per creare qualcosa? È così che è nato questo contenuto, ed è così che si è voluto sviluppare Diario di Viaggio on the road. Vi come vita da tecnico. Come nasce vita da tecnico? Giusto per una veloce curiosità. Io faccio il tecnico informatico da più di vent'anni, e nel corso del tempo ho preso appunti sulle disavventure più particolari che sono successe a me o ai nostri colleghi. Ho voluto prendere questi appunti perché, come cosa abbastanza classica tutti quanti l'avevamo detto all'epoca, mi sarebbe piaciuto pubblicare un libro raccontando le mie disavventure più particolari. Questo libro non è mai riuscito a venire fuori, perché non sapevo come impaginarlo, non sapevo come raccontare le avventure, avevo cercato di fare qualche esperimento, ma alla fine erano rimasti degli appunti che stavano stagionando dentro un cassetto. È stato proprio grazie a Diario di Viaggio on the road, grazie al fatto di portare le cose su YouTube, che ho pensato «Ehi, ma io potrei raccontare queste cose in dei video, potrei portare queste cose, tirarle fuori dal cassetto e portarle su YouTube». Oltre alla terza stagione di Vita da Tecnico, continuo sempre a prendere appunti, quindi arriveranno anche altre stagioni di Vita da Tecnico. E infine lettera Z, come zuzzurellone, perché in fondo è quello che faccio. Prendo una telecamera, l'accendo e comincio a guidare, girando per la città di Siracusa. È una cosa che mi diverte, che mi dà simpatia, mi piace creare questi video, e quindi in fondo questo è quello che faccio. Anche perché all'inizio lo facevo spesso proprio mentre andavo da un cliente all'altro, adesso lo faccio soprattutto il fine settimana, in un momento di relax. Io mi rilasso dopo colazione al bar, facendo una passeggiata in macchina e parlando con tutti voi. Quindi che cosa dire, che cosa sono se non più che uno youtuber uno zuzzurellone? Ecco, perché così non penso di essere uno youtuber, perché tutte le volte lo dico, sono uno youtuber. Mamma mia, anche se mi spazzolo, se strofino bene, non se ne va via questa cosa. Questo è tutto, io vi ringrazio di essere arrivati in fondo al vlog, vi ricordo se questo vlog vi è piaciuto di fare pollice in alto, di condividerlo con i vostri amici anche su Whatsapp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto, che lo metto qua anche se di solito si mette in auto. Però è un buon profumo. Piacevole questa battuta, l'ho rubata a Roberto Cordero perché mi è piaciuta tantissimo. Funziona, dai! È un modo simpatico di dire, venite sul mio canale YouTube. Vi ricordo inoltre che se seguite anche il mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Detto questo, se avete ancora qualche curiosità che vi piacerebbe sapere sul mio format o sui di nuovo grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!